Perché dite che la sincerità può essere violenta? Perché essere sinceri comporta una serie di sforzi negli individui che sono coinvolti nella manifestazione della sincerità. In essi vi è lo sforzo di esporre senza maschere quello che pensano è lo sforzo di accettare la manifestazione di sincerità altrui andando oltre il tentativo del proprio io di vivere tale manifestazione come un'aggressione. Perciò la connotazione positiva o negativa che è data all'espressione della sincerità è modulata dalla reazione che ha l'io delle persone implicate nell'esplicazione della sincerità.